Chiara Maria Mannarino racconta alcuni retroscena della telefonata ricevuta da Belen e del suo rapporto con l'attuale compagno della showgirl. A poche settimane dalla nascita di Luna Maria, la prima figlia di Antonino Spinalbese con Belen Rodriguez, Chiara Maria Mannarino si racconta in una lunga intervista rilasciata a Di Più. L'ex fidanzata dell'Hairstyle rivela nel dettaglio di essere rimasta molto male quando lo scorso anno ha saputo del legame tra l'ex fidanzato e la showgirl. Durante quel periodo di bufera, ha dato sfogo ai suoi sentimenti scrivendo sulla pagina del suo social network, non mi sento inferiore a nessuno. Un messaggio per se stessa, pronta nel difendersi e nel dire, ora guardo avanti. A quanto pare però, il post ha generato una reazione inaspettata. L'ex fidanzata di Antonino Spinalbese racconta di più di essere rimasta altrettanto perplessa nell'aver ricevuto poco dopo il post reso noto sul suo profilo Instagram una telefonata direttamente da Belen Rodriguez. La showgirl argentina non ha tardato ad alzare la cornetta per mettere in chiaro alcune situazioni. Nel dettaglio, la Rodriguez avrebbe consigliato all'ex fidanzata dell'Hairstyle di non esternare pubblicamente alcuni pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi. Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri ha raccontato la Mannarino, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen. Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene? A quel punto non ci siamo più sentiti. Antonino Spinalbese e Chiara Maria Mannarino Chiara Maria Mannarino non è un volto noto della televisione, è una ragazza di 27 anni, bresciana, lontana dal mondo dello spettacolo. Infatti lavora per un'azienda come Marketing Project Coordinator ed è nata il 23 agosto 1993. La sua relazione con Antonino Spinalbese inizia a costruire un solido rapporto nel 2016, quando lei era studentessa all'Università di Milano. Per quattro anni sono stati insieme finché, poco dopo essersi presentati alle corrispettive famiglie, Chiara ha raccontato che, nonostante fosse sempre stata attratta fin da subito dall'air style e dalla maturità dell'uomo, l'amore si era improvvisamente spento. Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto. Ad aver messo fine alla relazione sembra sia stata proprio Maria Chiara Mannarino. La giovane donna ha ammesso di averlo lasciato e fatto soffrire, ed è anche per questo che gli augura tanta pace e amore con Belen.